Che Dio ci aiuti sei, trama ottava puntata, Monica innamorata di Nico. Anche la sesta stagione di Che Dio ci aiuti si avvicina lentamente al finale, ma le vicende dei personaggi non si sono affatto risolte. Al centro dell'attenzione ci sono nuovamente Monica e Ginevra che provano sentimenti per la stessa persona. Prima di vedere cosa sta per succedere però facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci aiuti sei dove eravamo rimasti. Sor Angela aiutata da suo padre primo pensa di aver trovato la madre di Erasmo. Si tratta di Vanessa ma attende di averne la certezza prima di parlarne con il ragazzo. Quest'ultimo intanto sta indagando per conto suo ed è più vicino che mai alla verità. Intanto Azzurra fa il possibile per stringere il legame tra Monica e Penelope, ma la dottoressa è con la testa tra le nuvole e pensa ad Emiliano. Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Emiliano e Monica, ma ovviamente il tutto si dimostra più scoppiettante del previsto. Dopo aver scoperto tutta la verità sulla famiglia di Erasmo, Sor Angela prova a riconciliarsi con il ragazzo, ma quest'ultimo è determinato a non perdonarla. Ginevra si allontana dal convento per riflettere sui suoi sentimenti. Nico e Erasmo passano dei giorni di convivenza forzata e alla fine non fanno altro che litigare. Che Dio ci aiuti sei, trama ottava puntata. Ginevra lascia Nico. Dopo essere tornata in convento a seguito della sua lunga riflessione, Ginevra ha preso una decisione drastica. Nonostante il rapporto con Nico fosse molto migliorato, ha scelto di lasciarlo e non vuole avere più nulla a che fare con lui. Nico è disperato e molto insospettito. Non capisce perché le cose siano cambiate così repentinamente e promette di indagare per scoprire che cosa abbia realmente portato Ginevra a prendere questa decisione. Intanto Azzurra e Penny stanno molto vicine a Monica. Quest'ultima sta attraversando un momento difficile dopo aver capito di non provare nulla per Emiliano. Le due allora cercano di fare il possibile per farle prendere consapevolezza dei suoi veri sentimenti che sono nei confronti di Nico. Sor Angela è più serena dopo che la verità su Erasmo è venuta alla luce. Così annuncia a tutti che sta arrivando qualcuno di nuovo in convento. Si tratta di un giovane seminarista che sarà temporaneamente ospitato da loro. Che Dio ci aiuti sei. Trama ottava puntata. Monica si dichiara a Nico. Erasmo e Primo iniziano a frequentarsi assiduamente. Sor Angela è una delle prime ad accorgersene e si lascia andare ad una forte gelosia. Non vuole che i due stiano così vicini e non capisce per quale ragione a Erasmo preferisca trascorrere il suo tempo con Primo piuttosto che con lei. Nico scopre che a Ginevra è accaduta una cosa piuttosto brutta nel periodo in cui è stata lontana dal convento. Per questa ragione si sente in colpa e ne parla con Monica. La ragazza però non riesce ad ascoltarlo come una semplice amica e glielo fa capire dichiarandosi. Monica non vuole più essere un'amica per Nico e prova a spiegarglielo evidenziando i suoi veri sentimenti. Nel frattempo Carolina si avvicina molto a Ginevra. La ragazza si sente in colpa e prova a farsi perdonare ma non si capisce per quale ragione si attribuisca colpe che non sono sue. Forse ha qualcosa da nascondere. Voi che cosa ne pensate? Credete che alla fine Monica si fidanzerà con Nico o lui tornerà da Ginevra? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.